Questa è stata una delle prime città che il centro-sinistra, che il Partito Democratico ha perso ed è una delle città e della città che vogliamo riconquistare con il nostro candidato Luciano Oralli. Arezzo che in questi anni si è fatta conoscere più per gli scandali e scandaletti riportati dai giornali che non per le opere concrete che sono state fatte a beneficio della qualità della vita dei cittadini aretini. E io penso che i cittadini aretini questo l'abbiano capito molto bene. Simona Bonafè, segretario regionale del Partito Democratico, ad Arezzo per la presentazione della lista del partito a sostegno della candidatura di Luciano Oralli alla carica di sindaco. Una lista autorevole, composita, ben rappresentativa della realtà. Una delle colonne di questa larga alleanza che mi aiuta a presentarmi agli elettori in questa campagna elettorale. Il luogo scelto non è a caso, è il parco del Pionta, testimonianza, è stato detto delle tante occasioni perse per riqualificare questa parte della città. Abbiamo scelto questo luogo perché riteniamo che il Pionta sia un luogo appunto molto importante in cui convivono varie destinazioni, da quella sanitaria un pochino più avanti, quella universitaria, ci sono i scavi e riteniamo appunto che il nostro programma dovrà essere incentrato sul recupero di quest'area. Un'area sulla quale questa amministrazione ha fatto veramente poco, ha completato esclusivamente i progetti che erano stati fatti dall'amministrazione precedente e secondo noi ha perso anche una grande occasione. Quella del bando delle periferie degradate, un finanziamento regionale, anzi europeo tramite la regione e il governo che non ha saputo sfruttare perché se avesse presentato una serie di progetti su quest'area probabilmente tutti gli edifici che sono faticenti in quest'area potevano essere senz'altro recuperati. Una scelta poi precisa per i capilista che saranno sei, tra loro oltre all'attuale segretario comunale Alessandro Caneschi ci sono anche Donella Mattesini già assessora alle politiche sociali, Valentina Vaccari che ha nel suo bagaglio dell'esperienza di Rondine, Cittadella della Pace, Donato Caporali, Paolo Sisi e Andrea Sereni per anni alla guida della Camera di Commercio di Arezzo. Io ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza accumulata in questi anni al mio territorio, alla mia città, a Luciano Ralli che ritengo persona e uomo assolutamente onesto e capace. Da parte di questa amministrazione ho sentito narrare, raccontare una città all'interno della quale francamente non mi riconosco. Si sono completamente dimenticati o in parte dimenticati del comparto manifatturiero che è la colonna portante dal punto di vista economico di questo territorio, di questa città. Non ho sentito parlare del comparto orafo, non ho sentito parlare delle difficoltà del commercio, di tutti quei commercianti, di tutte quelle attività economiche al di fuori della scinta muriaria. Siamo qui, come ricordava prima Alessandro Caneschi, nel centro universitario di Arezzo che non ha solo bisogno e necessità di essere ristrutturato dal punto di vista urbanistico, ma anche bisogna trovare un accordo con le università perché i nostri giovani e i nostri ragazzi abbiano possibilità di crescere e le nostre imprese abbiano la possibilità di fare le start-up all'interno della nostra città perché siamo una delle ultime città sia per il numero di laureati che per start-up aziendali.